Consigliere Sola, si torna a parlare del bilancio del Comune di Pescara anche alla luce dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Ci sono delle novità? Sì, oggi torniamo a denunciare infatti la gestione economica del Comune di Pescara perché dopo i pesanti rilievi che erano stati avanzati nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti, che aveva lanciato un grave allarme sugli equilibri economico-finanziali dell'ente, la prima contromisura proposta dall'amministrazione Masci è quella di un taglio verticale su tutte le voci di bilancio per andare intanto a recuperare i 714 mila euro che occorrono per rimettere in equilibrio economico intanto il bilancio stesso. Ma è una scelta miope perché va a colpire indistintamente e danneggiare per centinaia di migliaia di euro anche settori strategici e delicati come l'ambiente, il sociale, la protezione civile, i servizi per l'infanzia e gli asili nido. Quindi diciamo che ancora una volta questa scelta dimostra come l'amministrazione Masci evidentemente non solo non è in grado di amministrare la cosa pubblica ma rischia di essere anche dannosa per la città perché va a toccare e danneggiare servizi essenziali per i cittadini. Potevano essere fatte altre scelte perché questa cifra innanzitutto va recuperata perché a Monte c'è già un errore da parte di questa amministrazione. Quindi oltre al danno la beffa e la contromisura poteva essere sicuramente andare a concentrare queste somme su servizi non essenziali come quelli che invece l'amministrazione Masci intende colpire e danneggiare per andare a rimettere in equilibrio economico il bilancio.